Il neozelandese Finn Fischer-Black ha preceduto di 8 secondi sul traguardo il resto del gruppo con Vincenzo Albanese della Eulocometa II e il suo compagno di squadra Diego Ulissi, quarto Damiano Caruso della Bahrain Victorious. Fischer-Black ha fatto il vuoto sull'ultima salita a un chilometro circa dal traguardo con il resto del gruppo che non è riuscito a tenere il suo passo. Il giovane neozelandese classe 2001 conquista così anche la maglia giallorossa di leader della classifica generale, quella ciclamino della classifica a punti, quella verde pistacchio di leader del Gran Permio della Montagna e quella bianca di leader della classifica dei giovani per i nati dopo il primo gennaio 1998. Non era affatto questo il piano alla partenza di questa tappa, ha messo al traguardo Finn Fischer-Black, mi aspettavo che vincesse Diego Ulissi, ho attaccato e quando mi sono guardato indietro non c'era più nessuno. Il direttore sportivo alla radio mi ha detto di continuare e fino a che non ho tagliato il traguardo non credevo di poter vincere. È la mia prima vittoria da professionista ed è molto importante per me. Lo scorso anno mi sono rotto una gamba e tornare è stato molto difficile a concluso. Domani è in programma la seconda tappa del Giro di Sicilia da Canicattì a Vittoria di 193 chilometri, partenza alle 10.35 da Largo Savoia.